Via il bollo almeno per le nuove immatricolazioni, via l'imposta di trascrizione e maggiore deducibilità per le auto aziendali. Io sono un esponente della minoranza, da solo non ce la posso fare, ma tutta la buona volontà sarà quella, al di là della campagna elettorale e delle contrapposizioni, di trovare intese tra opposizione e maggioranza su questi temi. La mia valutazione è che già intervenendo solo sulle nuove immatricolazioni l'importo è naturalmente molto minore, quindi da questo punto di vista avremo il vantaggio di un incentivo all'acquisto di nuove auto e anche il vantaggio di non dover fare coperture straordinarie. Ora, la prima questione è, dopo aver ascoltato anche i rappresentanti della filiera automobilistica, stendere un articolato che è quasi pronto. Dopodiché le tecnicalità vengono dopo. Può essere un progetto di legge autonomo, possono essere emendamenti a un primo decreto interessante, vedremo.